Il mio nome è Izar Bin Farak, discendo da un'antica stirpe centroafricana detta della luce buia. Ma la mia casa è il deserto di Rupa Alcali, detto anche Quarto Vuoto, dove l'orizzonte si incurva e la prospettiva si spezza. Molte sono le antiche dottrine di cui son scrigno. Oggi mi è giunto il momento, come per i miei avi prima di me, di rompere i sigili. Girare la chiave e restituirvi una gemma. Oggi mi è giunto il momento, come per i miei avi prima di me. Oggi mi è giunto il momento, come per i miei avi prima di me. Grazie per la visione! Grazie per la visione!